Cassie, questo è per te. Lo che sta funzionando. Andiamo. Dove stai andando, Max? Lo vedi, ti. Lo vedi. Master, obey your master, master. Svars, fanno uscire da qui. Master, master. Svars, apri la porta! Master, apri la porta! Lasciami! Master! Andy! Dobbiamo chiudere fra trenta secondi! Meno venti! Meno vieti! Meno vieti! Meno vieti! Meno vieti! Meno vieti! Uno! Meno vieti! Andiamo, andiamo! Amico, il più metal di sempre! in questo modo! Meno vieti! Voi! Anche! Svars, almeno vieti! Penso! Pagli. E adesso ci viene. Meno vieti! Anche! Grazie a tutti.